Facciamo così. Dottor Giovanni Fabrizio, possiamo dire una triplice veste, quella di medico, storico riferimento di quello che fu l'ospedale Santimotio, fondatore della Lilt nella provincia di Campobasso di cui è presidente onorario, e responsabile della pastorale diocesana in questo percorso che lega aspetti di cura della persona a quelli etici. Certo, è una nuova figura, quella della pastorale della salute, di cui sono stato fatto direttore, che mi impegna ancora di più per gli altri. Quindi la storia personale me lo imponeva e questa è una giusta conclusione. Il corso che stiamo organizzando, che abbiamo organizzato, fa parte proprio di questo percorso per cercare di riportare nelle strutture pubbliche e private, sanitarie e sociosanitarie, quel bricciolo di umantia, quindi una riumanizzazione che ormai è indispensabile perché si sta perdendo proprio questa stella, questo nord, questa stella polare che dovrebbe indirizzare tutti nell'assistenza. verso la considerazione dell'altro, dell'altra persona come una persona che ha vari aspetti, non soltanto quelli della malattia di cui noi siamo chiamati a curare, ma anche gli aspetti psicologici, gli aspetti sociali, gli aspetti relazionali. Questo corso sta proprio a significare questo tentativo di riavvicinare gli operatori sanitari, in questo caso infermieri e os, ma tutte le professioni sanitarie, alla persona. Quindi non più curare, ma veramente prendersi cura è l'obiettivo di questo corso. A febbraio saranno quattro anni dallo scoppio della pandemia. Anche nel nostro paese com'è cambiato il rapporto tra operatori sanitari e pazienti? Una presa di coscienza di quello che già si faceva e un'enfatizzazione di questo aspetto umano che è stato riscoperto dalla pandemia, ma che in realtà nelle strutture, in molte strutture, è presente e in molte persone della sanità era ed è presente. Certo, non in tutti, perché la diversificazione caratteriale ed educativa porta a reagire in maniera diversa le persone di fronte all'assistenza, nel momento dell'assistenza. Però non è altro che un modo per far capire a tutti, a tutta la popolazione, che gli infermieri, i medici, gli os ci sono e che sono lì per aiutare, per dare una mano, stando vicino. Quindi i congetti cristiani della vicinanza che si concretizzano nella professione. E la pandemia l'ha fatto riscoprire. Preoccupa questa recrudescenza di contagi che c'è nel tardo autunno 2023? Sì, preoccupa sicuramente perché bisogna ritornare un po' a quelle misure semplici, banali, che sono l'uso della mascherina, ma non tanto per evitare casi catastrofici che spero non ci siano, perché ormai il virus si è attenuato nelle sue manifestazioni più catastrofiche, ma per evitare l'influenza e per evitare l'associazione influenza-codile. Quindi semplici precauzioni che vanno riutilizzate. La stagione invernale lo indica, quindi noi al limite mettiamo la mascherina, laviamoci le mani e manteniamo le distanze. Non succederà, speriamo, nulla di catastrofico se ci atteniamo a queste regole.